Tutto il territorio provinciale viene rappresentato in questa manifestazione come prodotto turistico nello suo insieme. Il territorio della provincia della Spezia ha questa fortuna di essere un territorio completo dove sport, gastronomia, ambiente rappresentano un tutt'uno assieme alla cultura, insieme alle possibilità di svago. La provincia è una rete, è una rete di area vasta dove le Cinque Terre, la Val di Vara, la Val di Magra, l'Erici rappresentano dei punti e il turista può scegliere dei percorsi, dei itinerari modificando a piacimento un percorso in questo territorio. Non c'è un turista tipico, c'è un turista che sceglie con consapevolezza in base ai prodotti che gli possiamo offrire e quindi riesce a far sì che da tutti questi ingredienti nasca un percorso individuale e personale. È un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo spero anche durevole per questo territorio che ha scoperto questa vocazione nel momento in cui ha saputo salvaguardare le proprie bellezze, la propria cultura, le proprie tradizioni. La provincia della Spezia è un riferimento per molti, è un riferimento per molti per un modello di turismo che rispecchia quello che oggi il consumatore, il turista stesso cerca in un'esperienza di viaggio. L'incontro con la comunità, l'incontro col territorio o uscire dalla vacanza con un arricchimento di formazione personale, un arricchimento di formazione che può essere utile nella vita, può essere utile nella vita professionale o nella vita di relazione. Non è una vacanza, è un'esperienza, è un'esperienza che crediamo che questo territorio possa offrire e che oggi qui raccontiamo, raccontiamo tutti insieme con i sindaci, con gli amministratori, con gli operatori, con gli operatori turistici, agricoli e commerciali perché in un territorio si vive di sistema e questo spero che sia il messaggio che passa da questa provincia che è bellissima, unica ma anche in qualche modo potenzialmente una crescita economica per tante persone.